Cosa c'è ragazzi? Eccoli, 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 avanzano, walking dead, avanzano, eccoli, gli abbiamo mai mentito noi? Allora, noi abbiamo fatto mozioni, leggi, qualsiasi cosa abbiamo, non posso salire qua perché mi risolveremo, ma io ci stanno, un bellino bisco, un bellino bisco, un bellino bisco, hai spento il tassametro perché non fare niente, se qualcuno con cui vuoi parlare la testa, no ma no, guarda, veramente io sono commosso, commosso da queste persone che abbiamo messo dentro, queste 160 persone che sono di una competenza incredibile, perché guardate che se voi prendete una legge e l'aprita, il nostro Fiscalcofano, hanno votato il Fiscalcofano, non sanno neanche cosa sia, da sopra ti velo firma verde, e tu firmi, tu pigi in verde, non sanno niente di quello che fanno, non lo sanno, poi vanno in televisione a fare gli splendidi, perché la politica si fa nei saluti televisivi a fare gli splendidi, e poi lì non sanno cosa fare, non sanno cosa fare, cosa firmano, ecco perché io sono sempre alterato, sono alterato anche per colpa vostra, che mi dipingete sempre così, che inquadrate magari un po' di bavetta, che mi inquadrate quando ce la faccio così, la gente quando mi ferma per la strada, è timorosa, dico buongiorno, ma non mi dice una parolaccia, non mi manda a far culo, ma no signora, ma lei è una buona persona, mi dico, è anche colpa vostra, è soprattutto colpa vostra, settantesimi come libertà di stampa, dovete prendere delle decisioni da uomini, anche voi giornalisti, prima siete uomini, padri di famiglia, non giornalisti, è il mio lavoro, non funziona più, è il mio lavoro, perché se tutti gli italiani dicono è il mio lavoro, il Paese è in queste condizioni perché tutti dicono è il mio lavoro, tengo casa e tengo famiglia, rischiate anche voi qualcosa, rischia ogni tanto di andare in quella cazzo di trasmissione che fai a dire non è vero quello che ho girato, avete montato male, la verità è questa, prova a farlo una volta nella vita, prova tu a scrivere un'altra cosa. No, noi siamo attivisti, ci si chiamiamo, io sono amministratore del posto. Ciao ragazzi, arrivi a me, ma se la situazione è questa, perché non siete al 70% e siete al al 20%, se la situazione è questa, perché non siete al 70% e siete al 20%.